Se qualcuno mi dovesse dire ma come pensi siamo in questo momento, io vi dico con grande chiarezza che io penso che noi siamo ancora sotto il tunnel, il tunnel è lungo, e tuttavia per la prima volta io, e mi assumo la responsabilità di dire io, punto e basta, non voglio che altri, incomincio a vedere la luce alla fine del tunnel. Io incomincio a vedere la luce alla fine del tunnel. La Libia ha fatto una richiesta al Limo di avere un allargamento delle acque sarre in rapporto con Malta e tenendo conto diciamo di un accordo che con Malta hanno fatto nel 2008, punto, è una richiesta, al momento la richiesta non è un dato, punto.